Buongiorno da Milano, io sono Claudio Sadler, ristorante Sadler e ristorante Chicken Quick in Milano, via Scagnosforza 57 Italia. La nostra cucina è una cucina moderna e creativa. Oggi preparerò spaghetti di grano arso, aglio, olio e peperoncino con calamaretti sfrangiati, prezzemolo croccante e crema di aglio. Ok, Antonio vedi, dammi una mano dai. Antonio è lo chef alla stazione dei primi piatti e mi darà una mano a fare questa pasta. Allora, ok, inizio pure a mettere dentro la pasta nell'acqua, cuoce molto rapidamente. Ok, nel frattempo abbiamo preparato una crema di aglio, praticamente aglio novello, scottato in sette acque differenti e lavorata con un po' di crema in modo da legarlo leggermente. Ok, prendiamo questa crema di aglio, leggera e digeribile e la mettiamo su un piatto possibilmente nero. Ok, benissimo. Poi mettiamo un po' di peperoncino tutto intorno. Proviamo i panamari che sono già sforzati e sfrangiati, sono qua pronti. Tiro la pasta. Ok, facciamo legare la pasta con un poco di olio profumato all'aglio. Questa pasta è fatta con una farina di grano arso, una farina speciale che è utilizzata in figlia e una farina che si recava dal grano che viene utilizzato dopo che i campi sono stati bruciati. Ok, ora togliamo gli spaghettini di questa pasta fresca. sticco da questa maniera. Decoriamo con i calamaretti. Sono stati porti in padella, leggermente sforangiati. Ok. E ancora un po' di peperoncino. Il pezzemolo e un po' di cazzo bushi per dare una sensazione di affumicato. Con calore questo cazzo bushi che è del tono seccato, si muove ed ha una sensazione di vivo. Il piatto è qua. Ecco. Grazie.